Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco, Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Donna Felicità non ha l'amore, Donna Felicità lo vuol trovare, glielo troveremo noi, chi vuole coltivare la sua rosa. Donna Felicità non ha l'amore, Donna Felicità si sente sola, l'accompagneremo noi, ragazzi. A cercare furbi e viole, qui ragazzi, tutti qui, vediamo chi la sposa, sposa. Scommettiamo che lo so a chi darà la rosa, rosa. Donna Felicità non ha l'amore, Donna Felicità non trova il viole, gliele porteremo noi, Nei gesti, nei capelli o nelle mani. Donna Felicità non ha l'amore, Donna Felicità non può soffrire, la divertiremo noi, col gioco delle noci intorno al fuoco. Qui ragazzi, tutti qui, vediamo chi la sposa, sposa. Scommettiamo che lo so a chi darà la rosa, rosa. Tutti! Donna Felicità non ha l'amore, Donna Felicità non può soffrire, la divertiremo noi, col gioco delle noci intorno al fuoco. Buonasera! Ciao Lucianino! Ciao Enrico, ciao! Sei pronto? Prontissimo! Buon venerdì a te, buon venerdì alla Zia Marta, quando arriverà? E buon venerdì a tutti voi che siete pronti con i vostri messaggi a mandarceli. Mandateli tanti questa sera, 348 80 40 254 e un buon venerdì, un buon lavoro al nostro Paolo in regia! Ciao Paolo! Ciao, salutiamo Paolo! Ciao Paolo! Eccolo là, non è che lo vediamo, perché lui è a Torino, noi siamo l'userna, però ciao Paolo, buon lavoro! Ci sarà il giochino, ci saranno tante risate con la Zia, ma tanta bella musica. Abbiamo voluto, io e Luciano, questa sera farvi sentire non le solite 7-8 canzoni, ma tante di più! E come fare? Come fai per i reti? L'ora è questa! Semplice! Le abbiamo fatte tutte, tante, corte, partendo da questo medley 883 che dovete cantarlo tutti insieme a noi! Pronti? Vamos! Go! Semplice! Tappetini nuovi, Abre Magique, Deodorante appena preso che fa, molto chic, appuntamento alle nove e mezza, ma io, per non fare tardi, forse ho canato da Dio, alle nove sono già sotto casa tua! Sei un mito, sei un mito per me, sono anni che ti vedo così raggiungibile! Sei un mito, sei un mito perché tu e tutti noi sei la più bella mai impossibile! Ma perché sei andato via? Mi soppella sia nella notte! Perché non hai detto che ne rivia? Non lo so! Sarà il vento, sarai tu! La voce che risponde ai miei perché! Dai galoppa più che poi! Corri dai non più per mare! Che di strada ce n'è ancora tanta e sai! Sì, lo so! Vedo una cantina che Mi potrà togliere sete volte le Lancio qualche peso al cantinero Che non parla mai! Accanto a me c'è Luciano, uno straniero Mi chiede il vento, dove vai? Tutti! Non sono stessa E forse quel che cerco, neanche c'è Non sono stessa Stavo cercando lei o forse me Non c'è storia in questa città Nessuno si diventa Mai si divertirà Lascia perdere Tutta questa gente E non credere Di te non gli importa niente Nella strada balla E butta fuori quello che hai Fai partire il ritmo A quello giusto Datti una mostra Tieni tempo Con le gambe e con le mani Tieni tempo Non fermarti fino al domani Tieni tempo Vai avanti e vedrai Tieni tempo Il ritmo non finisce mai Con le gambe e vedrai Sì, nel Bronx, nel locale sta suonando un luce degli Stones. Lo schifo di vino al balcone del bar, tieni di whisky e margarita. Ad un tratto la porta fa slam, il querce entra di corsa con una novità. Dritta, sicura, si forbora che i cannoni hanno fatto bene. Hanno ucciso il buono ragno, chi se è stato non si sa, forse è quelli della malattia, forse è la pubblicità. Hanno ucciso il buono ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto la prestazione a qualche industria di caffè. Vai Luciano! Io non so se di questo ritmo arriviamo alle 21, Bianchini, perché tu hai una certa età, io pure. Quindi, cioè, calmi, calmiamoci un attimo e ci calmiamo con il giochino. No, no, che giochino, che giochino! Aspetti, aspetti, dove va? Dove va? Devo fare la musichetta! Niente musichetta, dai si arriva la musichetta, lo stacchetto, dai! Senza stacchetto non è la zia Marta! Beh, tutto posto, tutto bene, cosa sta facendo? Ma no, perché praticamente... Ma cosa fa? Ma c'è un insetto strano qua... Ma non è un insetto, ma scusi... E sembra... Scusi! Sembra un insetto preistorico... Siamo in diretta, per cortesia, ci faccia andare avanti... No, 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 no! Sì, 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 siamo in diretta! Non è un insetto preistorico, è un papamerda! Non si dice, non si dice! No, perché dall'anno non riuscivo tanto a definire, diciamo che strano! Vabbè, si dice cimice, no, credo che sia... Ah, cimice? Credo che il termine giusto del papam è la cimice! Puzza sempre, lei chiami come vuole, ha sempre un odore non gradevole, ecco! Poverino, è nato così, non ne può niente, eh, la cimice... Buonasera, amici a casa! Come state? Vi sono mancata? Tantissimo! No, devo dire che sono arrivati dei messaggi per Zia Marta... Ah, sì? Dove Zia Marta, che fine ha fatto Zia Marta, ci manca la Zia Marta, saluta il mio Zia Marta, tanti auguri, buon Natale a Zia Marta! Grazie! Bene! Anche a voi tutti, parenti, stretti, larghi, lunghi, corti, tutti, eh! Dica! Il succo della situazione è che... Dai, che devo andare avanti! Infatti, non ho niente da dire, vada! Ma come? Cioè, arriva qui, mi disturba e non ho niente da dire! Poteva essere pericoloso e sono venuta a salvarle la vita! Grazie, Zia, grazie! Molto gentile e adesso andiamo a giocare insieme a voi! Come fare a vincere il nostro regalo della UnicPers che adesso il nostro Paolo ve lo farà vedere! Sono delle creme pazzesche che fanno benissimo alla pelle, fanno bene all'anima, hanno un profumo straordinario della nostra UnicPers! E' semplice, semplicissimo vincerle! Basta mandare un messaggio al 348 80 40 254 col titolo esatto della prossima canzone! Ma attenzione! Non solo il titolo! Sarebbe troppo facile! Dovete anche aggiungere il vostro nome! Va bene! Va bene! Insomma, Bianchini, non credo che sia la parte così complicata! Una parte complicata! Andiamo con il brano misterioso Amici a Casa! Quindi, attenzione! Provateci! Eccolo qui! Dai! Ve lo faccio ancora sentire una volta perché questa sera mi sento proprio buono! Buono, 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 buono! Bene, se avete una minima idea di che brano possa essere mandateci un messaggio al 348 80 40 254 Da tutti i messaggi che arriveranno, quelli corretti, le mettiamo nell'ampolla magica di Casa Peretti E stasera il Bianchini va a ravanare! Ravana, 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 ne strae uno e poi quell'uno vince! Ma non solo! Quell'uno riceverà la nostra telefonata! Subito a fine puntata perché Luciano ha fretta di mettersi lì, nell'ampolla! Voi come ravana, Luciano, non ravana nessuno! Quindi, a proposito... Ma secondo me hanno indovinato già perché si è capito subito, secondo me! Come hanno già indovinato! Ma no, 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 no! E tra i quanti ne arrivano! Sentiamo Paolo! Qualcuno ha già indovinato? Sentiamo un po' Paolo cosa ci dice! Sì? No? Forse? Non ancora! Ah, non ancora! Perché non è così facile! Non è così facile! Noi abbiamo un altro orecchio, comunque! Esatto! Adesso mi ha scritto sì! Nel frattempo che si chiacchierava è arrivata la risposta esatta! Però non importa se è il primo o l'ultimo che indovina! Nell'ampolla vanno tutti! E a proposito di brani corti, ma tanti, arriva un mix anni 60, tutto da cantare insieme a noi! Eccolo qua! Vai Luciano! C'è lo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù Cerco un po' di sol, un po' di blu, dove il blu non c'è, dove il blu non c'è E sento il sole freddo, 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 fuori e dentro me, fuori e dentro me Il sogno è California, California, è un giorno io verrò E il tricchio gelato, che bella, io cerco di rega, cerco di rega, ma il mio pensiero invece va Il pensiero va, ritorno sempre là, ritorno sempre là Al sole caldo che vorrei, che qui non verrà mai Che qui non verrà mai Il sogno è California, California, è il giorno io verrò Faccio il suo paese all'età di vent'anni, con in tasca due soldi e niente di più Aveva una donna che amava da anni, lasciò anche lei per qualcosa di più Provise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù Dove nessuno voleva sognare, i campi d'arare e niente di più Conenziò così a fare vagabondo, girando paesi e città Cercava la fortuna ai quartieri del mondo, dimenticando la sua novità Con il senso che l'acqua arriva giù, io mi perdo e vedo degli occhi tuoi La mia libertà non la voglio più Amo il bianco e tu sei cantita Amo il bianco, si vede? Torni! Amo il bianco, si vede? Io mi fermo qui, qui dove vivi tu? No, più non cercherò un altro video ormai Tu sei l'acqua e dopo il fuoco non ti lascio più Torni, ti lascio più Torni, ti lascio più Torni, ti lascio più Sant'oroso, l'isola di Juai E il Brantone, l'isola di Qui Ha negli occhi e non è la giove Di qui cambia il mio piede I pimpi, i pimpi, i pimpi, a me l'abbiamo di andare così, per curiosare qui e là, e non sapevo cosa fare. A di un genio e giacche nuca, di la mea o di un storne, di raggio bianco intorno a me. Ai, orse, l'isola di Wai, e per noi, l'isola di Kiri, a me l'occhi della gioia di Quai, i pimpi, i pimpi, i pimpi. E adesso voglio sentire tutti a casa. Sulla voce! Tutti per davvero! Ho spento già la luce, sono rimasto solo io e mi sento mal di mare, il bicchiere è vero, è mio un cameriere lascia stare, camminare io solo l'aria fredda sai mi sveglierà oppure dormirò guardo lassù la notte quanto spazio intorno a me sono solo nella strada, oh no, qualcuno c'è Vai Lucerino! Mi sento la chitarra di Bianchi Un bellissimo medley! Ehi dei grandi Dick Dick, adesso prima di andare in pubblicità sono un po' in ritardo ma devo ancora farvi sentire il titolo cioè la canzone, se vi faccio sentire il titolo Peiretti stasera Peiretti è un po' fuori, oggi sono andato troppo per funghi ragazzi troppo, ho preso una patela di pioggia quindi comunque vi faccio sentire il brano misterioso provate a mandarsi il titolo 348 80 40 200 54 vediamo un po' Basta, basta, altrimenti è troppo facile dovremmo lanciare la pubblicità ma anche questa sera lo fa Alessia Cheluci per noi anche se non c'è, anche se non c'è lancia lei la pubblicità vai Paolo e se non sai cosa fare vai a passeggiare e se sei fortunata, uno, non cadi e due, trovi un fungo e io l'ho trovato pubblicità Marta, dica, dica è svenuto Blasone eh, vabbè, dica perché tanto non è inquadrato allora, che dire, bentornati amici a casa posso raccontarle una cosa a lei, agli amici a casa, eccetera se proprio deve sì, devo siamo contenti tutti perché finalmente sono riprese un po' le serate Nespà eh, certo per fortuna, dopo due anni di niente ecco che i palchi cominciano di nuovo a essere in piazza la gente, eccetera Irma oh, la sua amica che non esiste, ma esiste Irma, Irma esiste Irma, e lui dice dai, zia Marta, ti organizzo un concerto insomma, una tua serata facciamo va bene, dai, facciamolo è andata benissimo perché poi cosa ha fatto Irma? si fa fare cose in grande e allora ha anche chiamato diverse televisioni ed erano tutti a reti umidificate no, non è possibile sì no, unificate ah, unificate non esistono le reti umidificate no? no vabbè, unificate cosa succede? sa che nei concerti quelli seri a parte la standing rovescio no no, neanche ovescio il rovescio è un colpo del tennis invece la standing ove ovazione vuol dire in piedi per l'ovazione standing ovescio quella roba lì tanti tutti in piedi, eccetera ma poi il bello il clou della serata sa che si usa a tirare le rose i fiori certo, certo per i reti mi dica ovviamente chi viene a vedere Zia Marta sono magari persone già un pochino più della mia età piuttosto che della sua c'era un po' di tutto però più della mia età eh mi hanno tirato sì delle calze contenitive è che non è male sono sempre delle panciere sono sempre utili dentiere ebbè ma d'altra parte i suoi 97 anni ce li ha Zia papagalli che ancora un po' me ne ricevo uno in mezzo qua papagalli no, quelli lì non mi faccia fare gesti abbiamo capito ma il clou del clou ragazzi va bene tutto tutto ma il pannolone è pieno no, come lo vai ma per favore un minimo di sono arrivata al posto della parru non le dico finito finito un po' prima ma che concerto è ma dai ma che pubblico ha ma per fortesia comunque ci siamo divertiti a proposito di concerti a proposito di musica andiamo a vedere cosa succede domani a Luserna San Giovanni vai Paolo in regia perché dobbiamo raccontare di questo Fast & Music di questa grande festa sabato 4 giugno mercatino degli hobbisti un raduno di Lund Bass Tuning sono le macchine quelle modificate quelle tunzu 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 ma ci sono più di 150 vetture tutte modificate che avranno il loro sterio a palla e poi dalle 19.30 musica in tutta Luserna per di più c'è anche il nostro Luciano e la nostra Alessia che suonano sotto i portici quindi venite a Luserna fatevi vedere poi ci sarò io che giro perché devo coordinare che vada tutto bene quindi perché no ci facciamo una foto cosa c'è sto parlando sto parlando una vettura perché ce n'è più di una diceva non ce n'è una ma tante ce n'è 150 poi ci sono più di 30 è un bellissimo sabato da passare tutto il giorno a Luserna con un finale musicale col botto ci sono 8-9 musicisti sparsi per tutta Luserna sono proprio contenta ma ricordiamo anche dove siamo domenica dai nostri amici di Villa di Versuolo e no questo Paolo non c'è tra più perfetto l'abbiamo già raccontato domenica siamo a Villa di Versuolo tutta casa Peiretti veniteci anche a trovare quindi passate il weekend insieme a noi d'altra parte cosa volete fare sabato domenica al mare c'è la coda coda in terminale quindi non andate al mare in montagna ci sono i vipere quindi invece sabato a Luserna e domenica a Villa di Versuolo benissimo ci sarò ci sarò c'è anche a zia Marta a Villa di Versuolo sì sì a Villa di Versuolo sì invece a Luserna non c'è perché è stanco allora andiamo a cantare ancora un brano e poi a leggere tutti i loro messaggi ma prima voglio ancora giocare con voi ancora 3-4 secondi del motivo misterioso eccolo qui basta 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 si capisce si capisce bene mandateci un messaggio 348 80 40 254 per vincere i nostri prodotti della Unipass zia Marta se ne sta andando resta qua con me vado lo prenda lo prenda lo porti via lo prenda devo già staccare il filo stacchi il filo tanto pago io vai ecco oh molto bene e noi sempre ormai il tema della puntata è questo canzoni di un artista tante messe una vicino all'altra e tocca a Luciano Ligabue abbiamo andate ritorni violenti o troppo accesi o troppo spenti e non abbiamo chi ci fa sconti che quando è ora ci saluterà e ce n'abbiamo qualche speranza forse qualcuno ci ricorderà non solamente per le canzoni per le parole o la musica siamo siamo quelli là siamo quelli là siamo quelli là quelli da che ci fa sconti a Dicono che tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale che non sudi. Nascita al geniario, muori da portiere, dicono. Dicono che devi proprio farti fuori, se vuoi fare rock in qualche modo. Che portiamo i fiori, lì nei cimiteri, mi dici. Sei già dentro me, a guarda, vivere, vivere, costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star. Luciano di Capone! Cambio! Oh mamma, mamma, che cosa hai fatto? Sei scivolata ancora dentro un letto. Oh mamma, mamma, che devo dire, come l'amore assomigliava bene. Oh mamma, mi hanno creato tutto sbagliato. Oh mamma, ma non riesco a capire il mio peccato. Libera non salva, lo vedo il mio male. Qual è, libera piano, piano, che ci scordiamo com'è. Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te. Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te all'inferno. Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te. Manciano! 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 Hai mai urlato contro Geno? Quante volte! Come vedi sono qua, monta su, non ci avranno fine questo cuore, non crederà di luci e di bocci o di età. C'è una notte e ti dà un vecchio blues da fare insieme in qualche posto, accosterò, sarà la nostra casa ma credo che meriti di più. Ma intanto so quattro, io ti offro di ballarci su, è una canzone di cent'anni almeno. Vorrei sentire tutti pronti? Le canti una due, Luciano. Siamo della stessa pasta, bionda non la prego sai, ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi. Balla tu, per me speciale, se ti può bastare sai, che se hai voglia di ballar, uno pronto qui c'è là. Balliamo sul mondo, balliamo di qualsiasi musica, caderemo ballando, sul moto rosso, si si vorrà, facciamo un battanto. Lasciando un palco, un'unità libera, balliamo sul mondo. Vai, Lucianino! Non so se arrivo alla fine, te lo continuo a dire perché non abbiamo mai osato tanto in casa Feiretti. E gli 883, e Luciano Ligabue, insomma, eh? Il fisico c'è, eh? Il fisico c'è, quindi... Il fisico c'è. Ci ha famo, ci ha famo. Ci ha famo, se lo dice il Bianchini mi fido. Ci fermiamo soltanto tre minuti, anticipo un po' la pubblicità, poi torniamo in onda con tutti i vostri messaggi. Pubblicità. Questo secondo te, questo terzo tempo inizia, inizia con un augurio. Un augurio di buon compleanno da parte di Enrico Beretti, Blasone, soprattutto anche Blasone, alla nostra Saretta, auguri! Guarda che bella! Ecco il cappellino di casa Peiretti. Dovremmo tornare a mettere in paglio il cappellino, perché piaceva tanto. Auguri Saretta, buon compleanno anche da parte di Blasone, eh? Applausi, 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 applausi. Poi d'estate si porta volentieri perché fa un po' da parasole, no? La bardanda van, è fatta apposta, lo sapeva? Ma come? Ma sì, ma che banalità è? Si sa che i cappellini proteggono il sole, ma... Allora, stasera cosa si chiama Marta? Stasera, cioè, vabbè, si sa. Ma sape, caro Peiretti, che sono di nuovo iniziati anche, per fortuna, i matrimoni. La gente ha ripreso sposarsi. Si, bene. E allora io ho tante amiche che si sono sposate. Sa che adesso, oltretutto, può mettere tutti i cognomi che vuole. Cioè, inizia Luserna a dire il suo cognome e finisce a Pinerolo. Sì. Loro sono rimasti ancora un po' tradizionalisti, hanno solo tenuto il loro nome in... 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 Sono diventate in, per dire, non so, bianchini in Peiretti, no? Sì, difficile la cosa, però, insomma. Allora, io volevo salutare qualche cara amica che si è sposata. Iniziamo con la signora La Porta in Salvo. Dai, ma per favore, ma non ci crede nessuno La Porta in Salvo? La signora Cotta in Forno. Ma neanche a questa ci chiede qualcuno. La mia cara amica Rita Pesce in Aprile. Mia cugina Margherita in Fiore. La cugina di mia cugina Bella Vista in Montagna. Poi si è sposata la terza in Coda. Quante sono? Quante sono? Basta! Quante sono? La mia amica Stona in Chiesa. Ma Stona sarebbe il cognome di lei e in Chiesa il cognome di lui? E poi finisco con Ricordi in Fumo, mia cara amica. Io non conosco una che di cognome faccia Ricordi. Signora Ricordi, in Fumo. Ad esempio, la catena Ricordi, secondo lei. Vabbè, 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 vabbè. Ok, ok, ok. S'ignorante, sape proprio niente. Io ignorante, io ignorante, vabbè. Bene, andiamo a leggere i messaggi, non cantiamo. Little Tony Mixer Non ti senti a leggere i messaggi, non cantiamo. Non ti senti a leggere i messaggi, non cantiamo. Vedrò uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, e ci resterà. Sei bella, in questo momento più bella, adesso che il vento ti allontana da me. Non ti, aspettati, non te mi contro la notte, il cuore che batte, è il signor amante. La fiorgia, ancora col sole, tu vedi, chi nasce e chi muore, per te. Era lo sguardo d'amore, la spalla è nel cuore, mi sento morire. Morire per te Era un sguardo d'amore La spada e il cuore Mi sento morire Morire per te Un cuore matto Che ti segue ancora E giorno e notte Pensa solo a te E non riesco A fargli mai capire Che tu vuoi bene A un altro e non a me Un cuore matto Matto dalle gare Che crede ancora Che tu pensi a me Non è convinto Che sei andata via E mai lasciato E non ritornerai Diggi la verità Diggi la verità La verità E forse capirà E forse capirà Capirà Perché la verità Tu non l'hai detta mai Un cuore matto Che ti vuole bene Un cuore matto Matto dalle gare Un cuore matto Un cuore matto Un cuore matto Un cuore matto E il profumo di mare Con l'amore io voglio giocare Colpa del mare, del cielo e del mare Sento che sto lasciandomi andare Questo sole che cosa può fare Io non ci credevo ma posso sognare Forse è solo da un momento Che credo al sentimento E giuro che per noi non finirà Mare, profumo di mare E colpa del mare, del cielo e del mare E' stortito proprio Questo sole che cosa può fare Io non ci credevo ma posso sognare Forse è solo da un momento Che credo al sentimento E giuro, ti giuro Che per noi non finirà Ma che bello, ma che bello fare questi brani alternati E soprattutto adesso una cosa bellissima Andare a leggere tutti i vostri messaggi che ci avete mandato Sei pronto Paolo? Noi sì Eccoli qui Grazie giornata oggi Grazie giornata oggi Raccolta funghi senza occhio di falco Non avrei trovato nessuno Ciro Ho fatto i complimenti l'altro giorno Che avevi scritto un messaggio sensato Guarda lì Non si capisce niente Oggi Comunque ho capito Grazie Sarei occhio di falco Grazie Ciro Grazie Buon venerdì amici cari D'Alfonsina e Germano I fedelissimi Bravi Ciao Grazie Alfonsina Ciao Germano Anche se oggi è stato nuvoloso al mare Ad Arenzano Casa Ferretti Porta sempre magia Batti cuore Ascoltando bellissima musica Ottimi gli artisti Grazie Baci di mare E guarda Sembra fatto apposta Aveva appena cantato mare Profumo di mare Ciao Dani Grazie Ciao Dani Tantissimi auguri Di buon compleanno a Saletta Dai nonni di Costigliole Tanti auguri Anche da parte nostra Auguri auguri Ciao Grazie Bravissimi Ciao a tutti Da Maddalena Grazie Maddalena Strepitoso il meglio I bravissimi Giulio Un bacio a zia Marta Grazie Giulio Ciao Giulio Giulio bacia a zia Marta Prova Enrico Con gli 883 Fatto rivivere a quelli Degli anta come me Ottimi ricordi Ed una lacrimuccia Rita da Frassinetto Po Alessandria Ciao Rita Grazie Un saluto a tutti quelli Che ci stanno guardando Ad Alessandria Siete bravissimi Almeno cantate canzoni Che erano finite Nel dimenticatoio Finalmente Ciao a tutti Buona serata Ciao Patti Yesael Delirium Delirium Yesael Delirium Però Eh no Dovete firmarli I messaggi Altrimenti non sono considerati validi In casa Peretti c'è la buona musica che cantano Enrico Alessi e il grande Luciano Zia Marta è bravissima Simpaticona Date gioia alla vita Un mio pensiero La vita è bella Alle sue ali Tienila stretta Non mandarla via Vivila sempre Quello che lasci Si perde Non lasci spazi per riflettere Saluti dal vostro Tony Siete sempre bravissimi Però lui ragazzi Ciao Io voglio un libro scritto da Tony Tony scrivimi un libro Magari lo leggiamo solo io e te Però mi piace l'idea Il titolo per me Yesael Roberto Danizza Monferrato Ciao Roberto Siete grandissimi Un saluto da Giancotti Ciao Giancotti Grazie Grazie per i complimenti Grande Luciano Enrico Siamo tornati indietro di vent'anni Quando andavamo in vacanza con i nostri figli Stefano e Andrea In compagnia dei brani di Max Pezzani E degli 883 Ci avete regalato un ricordo bellissimo E un po' di nostalgia Un abbraccio grande grande A tutta casa Peiretti Per esserci tutte le sere A farci compagnia Lore e Beppe da Alessandria Ma non credevo che fossero gettonati così gli 83 Ma facciamo più sovente Buonasera Enrico Buonasera maestro Siete grandi Max 76 Ciao Max Grazie Ciao raga Ma che serata Siete il top del venerdì sera Bravissimi Marisa Grazie Ciao Marisa Mi piace quel Ciao raga Io 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 Bravi Casabeiretti Ciao sono Pinuccio Potreste cantare una rosa blu di Michele Zarrillo Pinuccio l'abbiamo fatta mercoledì Puoi andare a vedere la puntata su YouTube E cercarti una rosa blu Un grosso abbraccio dai vostri amici Marida e Salvo Ciao a prestissimo Ciao belli Ciao ciao State andando al mare Eh Stai tornando Bravi ragazzi siete mitici Bei ricordi questa canzone Salutissime a tutta Casa Pajaretti Compresa la regia Un abbraccione da Gabri Gugliasco Ciao Gabri Ma quanti siete anche questo venerdì Ma siete sempre di più Che bello Amore grazie per la compagnia che ci fate Per la vostra allegria Dall'amicina di Domodossola Nel Ma quanto avrà tre mesi quella gattina lì Ma che bella Blasone vieni a vedere Vieni a vedere che ti ho trovato l'amorosa Vieni Blasone Nerina ti piace? Ok Ha giudicato Sì Punto Bello Questo messaggio è il più bello E di 500 puntate Paolo cos'è sta roba? Grande commozione Enrico Luciano chiudo gli occhi Sentendovi cantare e suonare Brandi di Diddy Che mi sembra di essere tornati negli anni 70 In piena gioventù Dal vivo siete proprio loro Bravissimi Continuate così Beppe Lore Grazie Beppe Ciao Lore Veniteci a trovare Sabato e Domenica In giro per il Piemonte Bravi bravi ragazzi Mazzia Fai solo una piccola apparizione Sei come la nostra signora madre Appa Oh la la Appa quando vuoi Vediamo bene a Betta e Pino Grazie Mamma mia cos'è? In piedi Fatima No Grazie Grazie mille per il medley Delle canzoni di Liga Super apprezzato Ciao Cinzia Un bacio Ciao Cinzia Ho una super cotta per L'ultra centenaria Zia Marta Wow E' vero Deve cambiare gli occhiali Mia cara Zia Marta Bravi Nonna Vale Ecco Nonna Vale c'era Ma lei mi ha lanciato i fiori Nonna Vale Ciao Nonna Vale Al prossimo concerto Tantissimi auguri Tantissimi auguri seretta Un bacio da zio Simo e zia Isa Ciao Simo Ciao Isa E auguri ancora la nostra stupenda seretta Buonasera sono Mario Dite a Masha che la amo tantissimo Oh Masha in diretta televisiva Te l'ha dichiarato Quindi questa sera Dopo cena Eh Eh Masha Brava Masha Che bella serata con voi Siete sempre più bravi Complimenti Bella musica Buon weekend Speriamo di vederci a Villa di Verzuolo Un saluto da Banda e Marco Di Varge Ci trovate tutto il giorno a Villa di Verzuolo Dalle due in poi Zia Marta Le telecamere Le tessette Tanta musica Tante belle cose Ciao Enrico Luciano e Zia Marta Secondo noi la canzone Iesa è I delirium Giacomo e Silvana Ciao Giacomo e Silvana Ciao Giacomo e Silvana Ciao Ma sarà Iesa è ragazzi Ma Secondo me Secondo lei Secondo me sì Sì Vediamo un po' Ecco il brano misterioso di questa sera Tutti con noi dai Nei suoi occhi c'è la vita e c'è l'amore Oh Nel suo corpo c'è la febbre del dolore Oh Sta seguendo una luce che cammina Oh Lentamente tanta gente si avvicina Oh Era proprio Mille volte come sabbia nel deserto Oh Oh Mille voci come onde in mare aperto Oh Terza strada sta sfiorando i grattacieli Oh Quinta strada sta volando verso il sole Oh Tutti a casa Come on Dai Iesahel Na 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 Iesahel Com'era? Iesahel Na 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 Iesahel Liberati dal cemento e dalle luci Oh In silenzio nelle mani e nelle voci Oh In silenzio nelle mani e nelle voci Oh Iesahel Na 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 Iesahel Iesahel Na 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 Iesahel E io voglio salutare Paolo in regia Lanzia Marta Luciano Bianchini La chitarra di Luciano Bianchini E un immenso grazie a tutti voi E' stata una settimana bellissima in vostra compagnia Dite in giro cos'è Casa Pedretti Sempre E continuate con i programmi di Redo 7 Ci vediamo lunedì Per un'altra gran puntata Sarà qua con me Alessia Felucci Abbiamo già preparato delle canzoni Una più bella dell'altra E un mix di Renato Zero da non perdere Che stasera non ce l'ho fatta farlo Grazie a tutti Buonanotte Buona salata Ciao Buonanotte 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 Grazie a tutti.